Volevo fare un discorso a molte persone che hanno molte cose da dire in segreto, in segreto sì, perché si limitano a scrivere, ad esprimere i loro pensieri qua e là, ma non li esprimono in un modo tranquillo? No, li esprimono in modo altisonante e allora mi dico, va bene, visto che c'è tutta questa sicurezza nel vostro punto di vista, voi credete che il vostro punto di vista sia eccellente e allora fatelo conoscere a tutti, no? Fate dei video, fate dei video dove prendete posizione, no? Come faccio io, perché io non chiedo di fare a voi qualcosa che io non ho fatto? Però voi vi permettete di chiedere agli altri di fare quello che voi non avete il coraggio di fare. E così non va tanto bene. E allora, perché anziché continuare ad andare in giro per YouTube e Facebook a sparare fuori le vostre verità, perché non fate dei video, così rimangono a disposizione di tutti? Avete paura di farvi conoscere? Eh, siamo sempre lì. Ma allora se siete insicuri, perché scrivete con tanta sicurezza? Allora, siate voi stessi completamente e trovate il coraggio di esporvi continuamente, perché siete abbastanza noiosi certe volte. Su, via!